Solo luci e nessun'ombra con sacrifici, dedizione, trasparenza e soprattutto nessun lucro al solo servizio dello sport. Il presidente del circolo tennis di Lanciano Giancarlo Staniscia al suo quarto mandato a difendere l'immagine della struttura nel mirino di un esposto che ha portato la guardia di finanza ad acquisire dal comune tutta la documentazione relativa alla convenzione comune circolo. I punti contenuti nel documento, sottolinea con forza Staniscia, sono stati tutti rispettati, con investimenti importanti da parte del circolo che oggi può vantare strutture moderne e dignitose, con atleti di primissimo piano nel panorama nazionale e un settore giovanile fiore all'occhiello, anzi si è provveduto anche a manutenzione straordinaria non dovuta. In conferenza stampa il presidente ha voluto bandire equivoci e falsità salvaguardando l'immagine positiva del circolo creata in 22 anni di passione. La delibera del 2010 prevede una proroga di altri sette anni relativa alla gestione della struttura e adesso la palla passa al comune che dovrà chiarire se rispettarla o creare un apposito bando. Il circolo tennis in questo senso non teme confronti, parteciperà senza problemi e soprattutto con la coscienza a posto. Dal nostro punto di vista non c'è nessun caso, noi abbiamo aperto questa collaborazione col comune attraverso numerose convenzioni, in cambio di manutenzione straordinari che abbiamo effettuato, continuiamo per la nostra strada e eventualmente quando sarà il caso, se il comune ci darà ancora la fiducia continueremo così attualmente o altrimenti aspetteremo che un bando pubblico possa far continuare questa collaborazione. Tutto in regola, conti e tutto? Per quello che ci riguarda siamo in regola, penso che per quello che sento dire anche il comune per quello che riguarda la convenzione è in regola, per cui io credo che le mali lingue vadano un pochino calmate ma con i fatti, quello che stiamo facendo.